ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio negozio sono il rizzo e grazie a tutti per i 500 iscritti che abbiamo raggiunto e superato nel canale di youtube purtroppo ve lo devo dire il lavoro mi occupa un po di tempo adesso e sarà difficile che domani cioè domenica 22 riesca ad andare purtroppo a villa d'este mi è capitato un battesimo in quanto io sono un fotografo e quindi non riuscirò a partecipare a questo evento e a offrirvi le immagini delle auto delle supercar che saranno presenti in compenso però in occasione anche un po per il traguardo che ho raggiunto ma anche per uno sfizio che volevo togliervi diciamo ho preso questa ebbene sì signore e signori mi sono comprato una honda hornet questo esemplare in sé è usato però è mantenuto in ottimo stato e l'ho trovata ad un prezzo veramente molto molto contenuto ha solo per così dire 30.000 chilometri ma è scattante veloce agile e è un vero piacere guidarla come sono andato in concessionario la linea mi ha molto molto soddisfatto ero un po scettico diciamo sulla sull'estetica del conte chilometri non mi attirava molto ma devo dire che quello è l'ultimo dei problemi sinceramente e questa moto mi sta veramente soddisfacendo quest'estate probabilmente la userò molto spesso come mezzo principale e insieme a dei miei amici andremo in montagna e a fare delle escursioni qua e là diciamo e farò delle riprese anche per voi ma che dire andiamo a sentire il motore 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 pietro